ciao amici in autunno c'è un frutto dolce prelibato che può deliziare il palato e anche la salute sono le pere ma le pere ci sono tutto l'anno sì dai depositi frigoriferi in autunno arrivano quelle fresche le varietà abate williams e kaiser perfette per accompagnare la nostra tavola e anche la dieta per chi vuole perdere qualche chilo accumulato durante l'estate o tenersi in forma senza rinunce ai sacrifici se volete sapere tutti i benefici di questo frutto nostrano mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video dimagrire le pere sono ricche di fibre con un effetto saziante utile a regolare l'appetito il sapore dolce le rende ideali come dolcetto sano e light perché contengono antiossidanti e vitamine che sostengono il metabolismo con poche calorie pelle le pere fanno bella la pelle grazie al contenuto di antiossidanti e minerali cuore il contenuto di potassio e altri minerali protettivi del cuore rende le pere perfette come cibo amico della circolazione anche contro la pressione alta ma quanti benefici sto per svelarne altri ogni giorno pubblico almeno un video basta visitare la home del canale per seguirli tutti trovate i benefici di tanti altri cibi e come seguire un'alimentazione sana nella playlist in descrizione vista secondo diversi studi scientifici le pere aiutano a proteggere la vista e la salute degli occhi intestino le pere aiutano sia in caso di stipsi che di diarrea perché la loro fibra alimentare aiuta a regolarizzare l'attività intestinale come le posso mangiare ecco alcune idee io le adoro fresche come dessert a fine pasto a patto che siano ben immature altrimenti sono deliziose come spuntino o anche cotte al forno magari ripiene di cioccolato fondente ovviamente almeno a 70 per cento e senza zucchero bianco oppure cotte nel pentolino con un po di uvetta e cannella che delizia e voi amici avete ricettine sane e golose con le pere scrivetemela nei commenti qui sotto se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e dimagrisci diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri e ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ciao